Stasera fonti d'Italia Viva rilanciano l'idea, dopo l'approvazione del Lodo Conte Vista all'interno del DDL penale, della sfiducia verso il Ministro Bonafede. Se la sfiducia venisse depositata, lei riterrebbe che di dover andare al Quirinale per dichiarare, come dire, in qualche modo la crisi di governo chiusa a questo tipo di maggioranza? Il Ministro Bonafede mi permette, e qui vorrei rispondere solo io, perché lui essendo destinatario di questa attenzione mi sembra che il suo commento sia superfluo. Non riesco a capire dal punto di vista logico cosa significa mozione e sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia Bonafede. Forse perché ha portato in approvazione a dicembre la riforma della giustizia civile, che abbiamo tutti approvato all'unanimità e abbiamo lo dato. Forse perché questa sera ha portato in approvazione la riforma del processo penale, con tanti investimenti che non si sono mai visti in Italia. Di che cosa lo accusiamo? Forse per la norma sulla prescrizione? Ma il Ministro Bonafede si è dichiarato disponibile a rivederla. Le altre tre forze di maggioranza hanno raggiunto un compromesso. Un primo compromesso è già il lodo Conte I, attenzione, superava e di gran lunga alterava notevolmente la norma originaria. Il lodo cosiddetto Conte Bis, non vorrei dire la stravolta, Ministro, non ti offendere, ma addirittura l'ha cambiata ancora ulteriormente. Quindi oggi questa proposta di... cioè si chiarisca agli italiani cosa significa mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del Ministro Bonafede. Capite che è proprio qualcosa che è irrazionale, irragionevole. Io non riesco a... guardi, sarà un limite delle mie facoltà logiche, non riesco a capirlo. Detto questo, ovviamente, a me non piace ragionare in termini ipotetici, se mai ci fosse un'iniziativa del genere, il sottoscritto per assicurare credibilità alla politica ne trarrà tutte le conseguenze. Un ex Presidente del Consiglio, che ha sempre, come dire, si è sempre mostrato sensibile per la stabilità di governo. Si è lamentato in passato il fuoco amico, addirittura ha dichiarato che non si poteva accettare la dittatura della minoranza. E oggi questa responsabilità, credo che spetti a lui dimostrare questa responsabilità, questa sensibilità. Si minaccia la crisi di governo e poi si accusa gli altri di fare ricatti. Si dice che non si vuole la crisi di governo, ma poi si crea quotidianamente instabilità e si vota, ormai direi quotidianamente, con le opposizioni. Si dice che si vuole andare avanti e si dice che questo governo deve cambiare passo, ma non ci si rende disponibili a correre insieme. E poi addirittura si minaccia la mozione di sfiducia nei confronti di un ministro che, ripeto, ho descritto quello che sta facendo ed è in più il capodelegazione della forza di maggioranza relativa. Ma che gli italiani li prendiamo in giro? Temo la fine del conte 2, ma guardi, chi mi conosce sa che io non ho nessuna arroganza, ma neppure nessuna paura. Quello che posso garantire, ho sempre garantito agli italiani, che sino all'ultimo giorno, all'ultima ora in cui saremo qui, in questo palazzo, che ovviamente occupiamo temporaneamente, noi daremo sempre la garanzia della massima determinazione, massima concentrazione, massima dedizione per perseguire e realizzare gli interessi degli italiani, fino all'ultima ora. Non è nel mio stile governare mentre governo, mentre stiamo offrendo una soluzione, dopo aver chiesto la fiducia con un determinato assetto, diciamo così, lavorare per sostituire un gruppo ad un altro. Non è nell'orizzonte delle mie facoltà, delle mie possibilità. Non l'ho fatto e non lo farò. Quindi non è l'obiettivo sostituire un altro gruppo, come è scritto sui giornali, un altro gruppo parlamentare che venga a sostituire Italia Viva. Bisogna in questo momento che Italia Viva ci pensi un attimo e chiarisca. Se si sente in condizione di offrire un contributo, di correre insieme e far correre il Paese. Dopodiché valuteremo.